Smaltite colombe e passere varie per il Lovasso Girardi è tempo di tornare a fare sul serio, è tempo di tornare in campo. In programma per la 25esima giornata c'è la trasferta alla sale sul campo dell'Aprilia. In casa giallo blu c'è tanta voglia di riscatto dopo lo scivolone interno contro il Monte Giorgio. La vittoria manca da oltre un mese, blizza esterno sul campo del Rieti. Poi due pari e una sconfitta con il rinvio del match contro il Fiuggi. Bisogna tornare alla vittoria per avvicinare, forse in modo decisivo, la quota salvezza. Salvezza. Tolto l'impiagnonese e Porto San del Pito, le altre da dietro spingono. E proprio l'avversario di domani è quello che è più in forma. L'Aprilia attualmente ha il tredicesimo posto in classifica, a ridosso della zona tranquilla e cerca punti per uscire dalla zona play-out. Viene dal buon pari esterno conquistato sul campo del Tolentino e gioca un calcio propositivo. Mister Galluzzo schierese con il classico 4-4-2 e punta sui gol di Laghigna e Bernardini per scardinare la difesa alto-morisana. Occhio anche al Vasco, difensore del gol facile. Per il Vasco Girardi sono stati giorni pesanti tra palestra e campo. Per preparare al meglio questa delicata trasferta, non facile. Importante tornare in Molise con punti pesanti e per farlo Mister Prosperi si affiderà all'undici tipo. Guerra tra i pali, linea difensiva a 4 guidata da Capitano Ruggeri con Pacciardi. A fianco Terzini, Rauce e Guglielmi out per squalifica Pralini. Centrocampo con Mele, Pesce e Minchillo. Guida non si tocca dietro il bomber Silvio Mercai e Salatino in appoggio. Partita non facile ma la portata del giallo-blu. Al quinto ricci di Aprilia con Fisco Deniso fissato alle ore 15. Aprilia va a soggirare di sala diretta dal signor Filippo Colaninno della sezione di Nola. acqua di guada da assistenti di linea Baderin Manuni di Tolmezzo e Francesco Forgione di Gradisca di Sonso.